amici ben tornati sul canale 9 mila giri elaborazioni autosportive anche oggi una trasmissione diciamo divulgativa sempre per rispondere a tante domande tante richieste che ci sono state fatte ultimamente perché come sapete da febbraio del 2024 cambieranno alcune normative a livello operativo per le revisioni ministeriali sia per le auto che per le moto quindi abbiamo ricevuto veramente tantissime richieste di chiarimento su quello che poi effettivamente saranno questi cambiamenti allora partiamo dal concetto che noi non abbiamo la licenza noi come 9 mila giri non abbiamo la licenza per fare revisioni perché non abbiamo questo genere di attività tra le nostre fra quello che noi facciamo per cui ci avvaliamo di una di una collaborazione con un'officina che è con la quale collaboriamo da più di 20 anni che esattamente di fronte alla nostra officina che appunto fa revisioni ma stiamo aspettando abbiamo recuperato determinate informazioni però per avere un quadro preciso dobbiamo aspettare che gli vengano presentati a loro non a noi ovviamente questi nuovi strumenti e capire in funzione di questi nuovi strumenti che cosa saranno quali saranno i cambiamenti che cosa sostanzialmente viene controllato però alcune informazioni a livello generale le abbiamo recuperate quindi per quello che sono le informazioni che abbiamo in nostro possesso ve ve le trasferiamo in sostanza che cosa cambia cambia il fatto che oltre a tutti i controlli che ovviamente vengono fatti freni ammortizzatori luci impianti sonori quant'altro c'è tutto quello che fino adesso è sempre stato fatto si aggiunge un controllo diciamo un controllo tramite la presa OBD per cui tutte quelle macchine che erano macchina storica non riguarda questo genere di problematica però tutte le macchine recenti hanno questa presa OBD con la quale ci si può collegare la famosa presa di diagnosi attraverso questa presa vengono evidenziate tutte le problematiche che le varie centraline che sono collegate fra loro fanno emergere a livello di codici errore quindi attraverso questa questa questo scan tool quindi è una sorta di palmare che si collega come ingresso alla porta OBD e vengono fatti una una certa serie di controlli la prima diciamo che questo genere di controlli viene diviso in due parti la prima cosa è quella di verificare che visivamente la spia tool cioè la spia motore in sostanza funzioni quindi bisogna accendere il quadro l'accensione del quadro si accendono tutte le spie compreso quella della spia motore che è quella più importante spegnendo il quadro questa si deve spegnere perché in alcuni casi la spia motore può anche essere diciamo oscurata comunque diciamo può essere eliminata quindi la spia motore è come dire il warning più importante e questa visivamente deve funzionare quindi il sistema appunto accendi e spegni quindi verificano che la spia motore funzioni visivamente dopodiché si entra in questo scan tool e vengono verificati tutta una serie di parametri ben elenco alcuni me ne sono tirati giù un pochino e questi parametri sono molto importanti la prima cosa è verificare i dati identificativi del veicolo e questo è la cosa che serve soprattutto per evitare appunto cloni o problemi legati a macchine che sono state pasticciate come il numero di telaio corrispondenza con il numero motore e cose di questo genere quindi questa è la prima cosa che viene fatta vengono analizzati tutti gli errori in memoria quando uno analizza gli errori in memoria ci sono due tipi di errori degli errori diciamo statici chiamiamo così non attivi diciamo così e quelli vengono cancellati possono emergere per questioni randomiche diciamo e vengono cancellati non sono significativi quello che è significativo che ci sono degli errori in memoria attivi anche se la spia motore non è accesa ci sono degli errori in memoria attivi ecco se uno va a fare questa analisi per poter passare alla revisione la macchina non deve avere in memoria errori attivi cioè bisogna che come un po come dire porto la macchina con una luce un faro rotto piuttosto che una crepa sul 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 parabrezza per passare alla revisione la la vettura non deve avere in memoria nessun nessun codice di errore attivo quindi bisogna fare un'analisi prima verificare quali sono gli errori sistemarli come se uno andasse in revisione cosa che fino adesso era così con la spia motore accesa la macchina non passa alla revisione perché quello indicava che c'erano degli errori attivi però come ho spiegato prima non è che tutti gli errori fanno automaticamente accendere la spia quindi hanno fatto un ulteriore sotto controllo per andare a verificare che non ci sono degli altri errori e che questi errori siano chiaramente messi a posto altra cosa importantissima anche qui secondo me è un bel passo in avanti è verificare come dicevo prima non solo il VIN cioè il numero di telaio cioè la verifica sul numero di telaio ma soprattutto sui chilometri percorsi questo per evitare per finalmente diciamo cancellare questa usanza di tirare indietro i chilometri eh cosa che non non è così infrequente purtroppo per coloro che acquistano le macchine mh la la spada di Ambroke è sempre quella di acquistare una macchina tra virgolette schilometrata con questo tipo di sistema vengono verificati chilometri effettivi vengono verificati i consumi cioè c'è tutta una serie di verifiche che a questo punto se la macchina fosse stata manomessa come chilometri verrebbero messi verrebbero messi in evidenza e anche in questo caso eh bisogna ripristinare la situazione. Ultima cosa che riguarda forse un pochino più anche in maniera specifica il nostro lavoro e qua dobbiamo capire esattamente che cosa andranno a controllare e anche il fatto di verificare attraverso la centralina che non ci siano delle anomalie nella centralina soprattutto per quanto riguarda i ehm i sistemi anti inquinamento che sono appunto i catalizzatori che ci sono sia sulle macchine benzina che diesel e i sistemi FAP o eh OPF o DPF che dir si vogliano. In questo caso mh spesso c'è capitato abbiamo sempre detto al cliente attenzione che eh nel momento in cui tu vuoi eliminare fisicamente il FAP questo comporta una eh un decadimento dell'omologazione della macchina nel momento in cui uno volesse fare questo lavoro a suo rischio e pericolo e come noi ci sono migliaia di altre officine che su richiesta hanno fatto questo genere di lavori. Oggi come oggi bisogna capire se ehm già adesso noi sconsigliamo di fare questo genere di lavori e se uno ha un problema col FAP gli consigliamo di smontare il FAP lo facciamo noi chiaramente smontiamo il FAP lo facciamo rigenerare con una determinata procedura il FAP ritorna praticamente nuovo quantomeno al 90% la macchina rimane in omologa abbiamo sempre sconsigliato di togliere i catalizzatori perché quello anche da un punto di vista meccanico è un errore se va a decomprimere troppo lo scarico piuttosto si monta un catalizzatore metallico solo che se uno monta un catalizzatore metallico il sistema antinquinamento anche facendo un controllo dei parametri della centralina rimane attivo perché la catalisi comunque viene fatta è un pochino più aperto ma comunque la macchina supera la revisione se uno mette un downpipe libero anche prima la revisione non la passava tanto e a maggior ragione non la passa adesso quello che c'è da andare a capire è cosa succede a tutte quelle macchine che hanno ehm tolto il sistema FAP perché fino a alla diciamo alla la situazione precedente i FAP non venivano rilevati perché veniva fatto un controllo solo con l'opacimetro sto parlando di vetture diesel veniva fatto solo un controllo con l'opacimetro e quindi il fatto oppure un controllo visivo del del fatto che ci fosse questo contenitore all'interno del quale dovrebbe esserci il FAP se il FAP veniva eliminato nelle revisioni con i controlli precedenti non veniva rilevato adesso bisogna capire perché se uno toglie il FAP eh dalla macchina ovviamente come ho spiegato altre volte bisogna toglierlo fisicamente poi in elettronica bisogna disattivare il ciclo di pulizia per cui uno se fa con uno scan tool un un'analisi di di quello che è la situazione in centralina verrà fuori dal mio punto di vista un warning sul fatto che il FAP è stato disattivato cioè sono stati disattivati i cicli di pulizia quindi in questo caso bisogna capire come eh ripristinare il veicolo perché se non viene ripristinato come per tutte le altre cose che vi ho detto precedentemente la revisione non la passa quindi secondo me c'è da prestare attenzione nelle prossime settimane capiremo bene questo aspetto perché ci ehm diciamo ci riguarda in maniera particolare per poi trasferire ai nostri clienti quello che è la situazione e consigliarli al meglio perché eh il discorso è sempre quello di non fare dei lavori e poi avere il cliente che a sua insaputa eh eh ha un problema se uno ci chiede di fare una modifica artigianale su uno scarico diciamo chiaramente il cliente attenzione che questo scarico non è omologato il motivo per il quale eh cerchiamo sempre di consigliare scarichi sportivi con lo l'omologazione l'importante essere sempre chiare quel cliente poi è il cliente quello che decide è il cliente che ci firma uno scarico di responsabilità e l'utilizzo per quello che ci riguarda è solo eh per determinate condizioni e non dovrebbe circolare in strada una macchina del genere in Italia ce ne sono veramente eh se ne vedono di cotte di crude soprattutto sul discorso dei FAP che sappiamo perfettamente che creano un sacco di problemi però ripeto abbiamo già fatto delle trasmissioni precedentemente dove ci sono delle alternative al fatto di non eliminare il FAP ma di andarlo a smontare di riportarlo a piena efficienza quindi non è che uno dice o tutto o niente delle alternative efficienti ci sono io per il momento per le informazioni che abbiamo recuperato direi è tutto magari ci aggiorniamo appena riceveremo da parte di questa officina con la quale collaboriamo una situazione definitiva in maniera tale da chiudere il cerchio anche su queste eh ultime due cose che sono rimaste eh ancora ancora scoperte per il momento è tutto come al solito vi potete chiamare anzi mandateci le vostre opinioni nei commenti noi cerchiamo di rispondere a tutti cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati a tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao